Ciao a tutti e bentornati ad Overa Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Questa sera andiamo a concludere insieme a Robby la campagna Going Viral per Marvel Champions con i nostri due amici ragni Ghost Spider e Spider-Man Miles Morales. Partita pazzesca! Se avete seguito fin qui la campagna non perdetevi sta partita perché davvero a un certo punto succederà qualcosa di incredibile e la fine sarà incredibile. Quindi seguitela, godetevela, prendetevi del tempo perché davvero ci siamo divertiti un sacco ed è stata molto bella e molto divertente. Sappiate che questa è la conclusione di uno dei nove tavoli che hanno giocato questa campagna Going Viral sul server disco di Overa Gondor, server al quale vi invito ad unirvi, trovate il link in descrizione per unirvi alle prossime campagne. Più in generale se vi piace il video mettete like, commentatelo, se vi piace il canale iscrivetevi. Buona visione! Sì, questo qui. E in più uno degli eroi, degli alleati che abbiamo salvato lo possiamo già mettere in gioco nel setup. Ah ok, dunque forse mi conviene mettere Moon Knight, giusto per pulire un po' meglio il board, cosa dici? Sì, 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 almeno ci aiuta un attimo perché abbiamo questi due minion brutti. Esatto, sì. E Shang-Chi o White Tiger? Boh, mettiamo Shang-Chi 2-2. Sì, forse Shang-Chi conviene. È bella da fare entrare in gioco, sì, anche se la stabilità è bella da fare entrare in gioco. Va bene, partiamo con Shang-Chi. Allora, faccio il Mulligan. Quindi c'è dentro tutto, cioè il set è giusto? Era solo il set Ultron? Allora, ora controllo. C'è quello dei sinistri 6 è sotto attacco. Ok, perfetto. È più il suo. I sinistri 6 li avevi già messi dentro. Quindi sono i minion. Sì, all'inizio, controlliamo. Ok, o Goblin, Vault, Tour e così via, ok. Tostini, eh? Eh sì, eh sì. Allora, in realtà, avendo ora mescolato, in teoria anche tu dovresti fare shuffle, puoi mettere un drone. Quindi facciamo così. Io il drone me lo prendo. Perché? Faccio shuffle. Ok, rifaccio. Eh, perché ho rimescolato l'alleato. Ah, tu in realtà... Tu in realtà no. In realtà da te penso andava bene. Perché tu già avevi mescolato gli alleati. Vabbè, cambia poco. Cambia poco, esatto. Sì, sì, cambia poco. Allora, noi dovremmo cercare il più velocemente possibile di buttare giù Ultron 2, abbiamo detto, no? Come logica. Perché per assurdo l'Ultron 3 è meno problematico dell'Ultron 2. Sì. Come logica. Sì, e condivido. È assolutamente condivido. È vero che poi i droni sono più forti, però non ce ne butta fuori uno, cioè due a turno. Esatto, esatto, infatti. 44 punti vita, eppure è abbastanza robusto. Allora. Tu hai quello avanzato, che ti dà anche più uno, più uno, più uno, dopo che prendi danni, è pure buono. Ok, va bene. Possiamo iniziare? Anche perché sono danni indiretti, quindi può essere utile. Sì, vai. Allora, io ho subito Squirrel Girl, quindi sarebbe un'ottima cosa buttare dentro Squirrel Girl per fare un danno Octopus, fuori due droni, e togliere il robusto a Scorpion. È ottimo. Quindi magari io tolgo questa armatura, perché questa armatura è veramente brutta, perché facendogli un danno si prende il robusto di continuo. Sì, sono d'accordo. Lui vuole due pugni. Ok. Ok, allora facciamo così. Poi puliamo il board il prima possibile. Sì, allora intanto devo fare il... Il malligan, non l'ho fatto, aspetta. Scarto tre, pesco queste tre. Ok. Interessante. Eh, potrei fare un po' di cose. Allora, vediamo un po' cosa mi conviene fare. Perché questi gregari sono veramente brutti. Allora, sicuramente mi flippo. Allora, io ho più trade point, quindi in realtà ho tredici. Tu hai nove, giusto? Sì. Allora, vediamo che possiamo fare. Entra. Esco pugno. È tosto questo set di incontri, eh? Cioè, sono gregari tosti. Eh già. Allora, io mi uso il potere dell'offensiva per giocare il combat training. Lo vuoi tu o me lo prendo io? No, prenditelo tu. Così se tu attacchi con Shang-Chi e Ghost Spider Octopus, poi io lo faccio fuori con Squirrel Girl. Giusto, 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 giusto. Perfetto. Sì, farò così assolutamente. Stavo pensando... Cioè, è un peccato perché sono sei danni. Però, d'altronde... Cioè, sono troppo forti questi gregari. Questi due sono troppo forti. Eh, hanno criminoso, quindi... Hanno criminoso, sì, sì. Eh no, farò così sicura... Farò così sicuramente. L'unica cosa è di togliere questa armatura. Perché altrimenti io potevo sia giocarmi il Land Cannon che anche Brown come alleato. Mmh. Però forse togliere l'armatura, che è ottimo. Con quel pinghino. Però tu riesci comunque a togliere un po' di... Fammi vedere se riesco a togliere io l'armatura. Pure tolgo l'armatura. Fammi vedere un attimo, eh. Con questo gioco questo. No, mi manca un pugno. Non ce la faccio. Ci manca proprio il risorso a pugno. Vabbè, allora me lo tengo per il prossimo turno. Dai, facciamo così. Ah, però devo esaurire l'eroe. Ah, giusto. Facciamo così. Facciamo così. Però forse la cosa migliore adesso è far fuori questi gregari, eh. Sì, sì, sì. Allora, facciamo così, facciamo così. Mi esaurisco con Ghost Spider. Quindi attacco 3 più... Skill Strike. Quindi 5. Faccio 5 danni a Octopus. Ok. E mi stappo. Ok. Dopodiché mi esaurisco. Spendo. È un gran peccato. Perché guarda cosa devo buttare via. L'Hank Cannon. Il potere dell'offensiva è Lank Cannon per togliergli l'armatura. Eh sì, però in effetti sono tanti danni questi nel tempo. Che parerebbe perché è robusto e così via. Vai. Quindi mi esaurisco. Togliamo questi due pugni per togliergli l'armatura. Con Shang-Chi gli faccio due danni a lui. Due danni, sì, sì. Perché tanto i droni li fai fuori tu. Esatto. Togliere il robusto ha senso? No, 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 no. Ma riesci a far fuori Scorpion? Sì, dovrei, dovrei. Allora faccio due danni a Ultron. Sì, sì, anche perché secondo me va giocata in velocità, eh. Allora io scopo il carto Sunspot e lo Swing In per giocare Squirrel Girl con cui facciamo fuori. Fai fuori tu i tuoi. Ok, quindi Octopus e il drone. Il drone va da mani. Poi. Interessante questo. Ah, perché io potrei giocare... Ah, no, però no, no, questo. Ok, no, niente. Allora poi gioco il web shooter per il futuro, diciamo. Mi flippo in Spider-Man. Allora. Io gliene faccio. Fammi fare i conti. Due, tre, quattro, cinque. Giusto? Così, così potrei prendermi due danni indiretti. Che potrebbe essere uno su Shang-Chi e uno su di me. A questo punto io posso attaccare a tre, però è un po' subottimale. Quindi io potrei fare i due danni, cioè gli faccio due danni in meno, ma i due che faccio prima gli faccio a Ultron. E gli altri li faccio a Scorpion. E con i tre uccidi Scorpion. Sei d'accordo? Perfetto, assolutamente. Ok. Così ci siamo liberati. Brown me lo tengo o lo tolgo via? Perché comunque è un buon alleato contro i droni. È un buon alleato. Me lo tengo? Tienilo, tienilo. Anch'io tengo il webshot perché così lo stordiamo. Eh, ok. Possiamo andare. Allora, aspetta che io ho nove punti ferita. Ok. Quindi, Shift-P, P. Ok. Va bene, mi piace. Allora, lui si attiva. Quindi, se ti attacca a te, devi mettere la top card. Allora, quando si attacca, devo mettere il drone. Quindi mettiamo il drone. Che ovviamente è così. E mi attacca di tre. Allora, sì, sto un attimo pensando. Allora, io un primo attacco potrei prendermelo perché non avendo i braccialetti ancora non ho il motore che mi stappo e tutto. Sì. Oppure... Sì, dai, prendo, dai. Allora, lui mi attacca di tre, giusto? Quindi tre più... Sicura di uno. Quattro. E sicura di uno. Sicura di uno. Va bene. Quindi prendo quattro danni più uno del drone. Allora, io ho l'abilità che potrei anche scartare la top card del mazzo e prevenire un danno da ogni attacco. Qual è che è la tua bata? Ah, carino. Carino. Io potrei prendere tre danni invece di cinque, scartando due carte. Quasi quasi lo farei. Non è male, non è male. Che dici? Vai, vai. Allora, prendo solo tre danni e scarto due carte. Ok. Io l'ultron si cura di uno, attacca a me, io paro con Squirrel Girl. Ok, Squirrel Girl è fatta fuori e invece il drone mi fa un danno. Io lo prendo a sto giro, poi andrò a curarmi. Vai, da una carta incontro a te. Ok. Fai tu? Eh, sì, scusami, sì. È una te. Eh, sì, eccola qua. Allora. Prendiamo la mia. Ah, la tua si è girata. Allora, uh, aspetto un attimo. Allora, io potrei annullare il web rebuild, però comunque avrebbe surge. Avrebbe surge. Cioè, invece di rivelarne due, ne riveliamo una sola. Che dici? Però non sfrutti la tua abilità, giusto? Eh no, sono già stappato. Ci prendiamo due carte, eh? Il problema sono quei minion grossi. Ah beh, ma... Sì, sono d'accordo. Beh, ce li prendiamo, ce li prendiamo. Che dici? Dimmi tu. Io li prenderei. Ok, allora riveliamo due carte. Allora, la prima è questa. Ecco, questa io la cancello. Sì, questa la cancellerei. Questo la cancello. Quindi, scarto uno. E... Eh, purtroppo Bron, e mi gioco questa qua. Quindi, cancello il quando rivelate e fa i danni a uno più del bustaico. Quindi vi faccio due danni a Ultron e cancello la carta. Quindi ne ho un'altra, che è Ultrosicura a due danni per ogni drone. Va bene, va bene. Ecco, questa va benissimo. Questa va bene. Quindi torna a quattro. Invece la mia è fa un danno a ogni friendly character. Quindi Moon Knight ci saluta. Io prendo un danno... E vabbè, è un danno a testa. Ok. Ok. Allora, io partirei subito... Tocca a te. ...Violence per rigiocare Squirrel Girl. Ottima. Con cui facciamo fuori i Minion e un danno ad Ultron. Giusto? Perfetto. Poi a questo punto... A questo punto io farei così. Cioè giocherei con il web shooter E1. Giocherei Ganchi Lee. Cioè non... Nel senso... Ganchi Lee, fammi pensare un attimo. Se io gioco con quello Ganchi Lee. Però se poi sono corto di una carta... No, allora facciamo così. Scarto questa. Che non è male. Questa l'ho messa in singola coppia che mi piaceva come tema di aumentare, come dire, i danni fatti dagli alleati. Beh, sì. Forse no. Forse faccio fuori i Ganchi Lee, tanto è difficile che lo uso. E gioco il web shot. Con il web shot faccio quattro danni a Ultron. E in più, siccome ho usato una risorsa Wild, gli faccio due ulteriori danni e lo stordiamo. Perfetto. Giusto? Ci piace, no? Con Spider-Man Miles Morales intervengo sulla trama principale di due. Con Squirrel Girl lo attacchiamo e gli facciamo un danno. Non userei la mia abilità, però in realtà è stordito. Io potrei anche prendere due danni, stapparmi e attaccarlo di tre. O è un po' rischi? È un po' rischi. Tu hai 9 punti vita. Io la userei solo tipo se c'è qualche cosa necessaria. Sì, sì, sono d'accordo. Vai. Anche perché io non posso fare nulla, purtroppo, avendo giocato quella cancellazione. Posso solo attaccare di tre. È proprio un turno bruttissimo. Non è? Quindi, uno, due, tre. Eh sì, perché ho due carte che costano due. Mi tengo il calcio. Scarto questa. Allora, il problema è che con questa trama, se andiamo in alter ego, lui passa. Perché è molto facile che passa. Sì, secondo me ci conviene resistere finché possiamo, non andando in alter ego per il momento. O magari se è confuso. Esatto, magari lo confondo e va uno di noi, ecco. Può essere un'idea. Eh, va bene. Allora, tengo così, a limite paro coscienci. Passo. Perché io ho la carta che io posso andare in alter ego, curarmi e poi ritornare in eroe, magari. Sì, cioè, si può fare. Ce l'ho. Ah, sì, hai il cambio, quella che costa uno. Sì, sì. Ecco, adesso ho la carta che confonde. No, ho la carta che stordisce di nuovo. Vabbè, comunque lui adesso attacca me. Io, no, scusami, è stordito. È stordito quindi niente. Io paro con Squirrel Girl. Allora, attacca me. Ah no, a meno che non ti conviene. Un attimo. Stavo pensando. Beh, in realtà un alleatino. No, ho la cancellazione e me la tengo. Eh, vuoi parare con Squirrel Girl? Sì, 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 Squirrel Girl deve stare il più possibile nel cimitero. Allora, mi prendo, mi prendo comunque il drone. Giusto, sì. Cato, strength. Eh, ho visto, sì. Quindi ti attacca di tre, più il boost. È quella che, quella tua è il boost. Esatto, io paro con Squirrel Girl e il boost è... Scegli di spendere una risorsa, mettere la top card del tuo mazzo in to play face down, ingaggiate con te con il mominio drone. Devi farlo tu, credo, giusto? Perché sei il difensore. Eh, no, credo tu perché hai difeso tu. Perché divento io il difensore, ok? No, credo che... Eh, sì, credo di sì. Allora, fammi fare due conti. Ce l'hai un fulmine, eh? Per avercelo ce l'ho. Ok, sì, va bene, scatto Victor Mancia. Vai. E mi attacca il drone. Il drone è giocato, sì. Potrei sempre scartare la carta per evitare il danno. Non è una brutta idea. Scartiamo una carta. Sì, va bene. Ok, quindi carte incontro per te. Eh, sì, scusa. Prendi? Vado. Vai. Mi attacca. Allora, 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 allora. Io ho di nuovo la cancellazione. Ah. Però poi al solito mi blocco con la mano. Ha senso cancellarla, secondo te? Qui. Beh, allora, è comunque un drone in meno in un turno in cui io non ho roba per far fuori i droni. Quindi penso che potrebbe valer la pena cancellarla. Però vedi tu. Se no, se no, se no, vabbè, mi prendo il drone. Mi pari tu. Paro io, potrei parare con Gospato. Pari tu. Anche perché se no, non gli fai neanche tanti danni con l'assalto, no? Ci sei? No. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quindi potrei, potrei fare... Sì, allora facciamo... Quindi lui mette in gioco un drone. Allora facciamo così, dai, me. Un drone però paro io. Sì. Andiamo lì con una boost. Quindi attacca di tre. Tre più due, cinque. Quindi prendo due danni. E però io direi... Che gli potrei fare sei danni. E mi stappo. Io lo faccio. Non è male. Quindi scarto uno e due e mi gioco il calcio. E quindi gli faccio sei danni. Non è male. Ma 21. Con la logica che ci siamo detti non è male. È già a metà vita. Speriamo che non sia una cosa brutta. Ecco, un altro... Vabbè. Vabbè, lo buttiamo giù. Ok. Ok, quindi tocca a me. Allora. Io purtroppo posso fare pochissimo se non mettere giù questa. Che comunque se si riesce non è male avere in caso un più uno di attacco. Prendere qualcosa. Sì, non è male. Io potrei attaccare di tre Hobgoblin. Tu come sei messo? Allora, perché io ho questa. Però non possiamo metterla giù, giusto? Perché ce ne può solo essere una. Ah, se vuoi... Se vuoi... Allora, la vuoi mettere giù e te la... Come dire... La riesci a... A completare in questo turno? Sto guardando, eh. Perché così il training non me lo gioco. Perché se riusciamo a completarla ora, tu che alleato vuoi prendere? Non ho alleati, come dire, che entrano e spaccano. Cioè, tipo Nick Fury non ce l'ho. Non ho ai Nick Fury, però avresti White Tiger. No, no. Avresti White Tiger, però... Al di altri alleati un po' più grossi. Sì, comunque c'è... Tipo Valkyria, qualcosa così. Dovrei controllare. Controlla. Vabbè, Hulk è rischioso. C'ho Tigra, Brawn. Tigra l'avevo messo perché tipo attacca... È sicura. È sicura, sì. Cioè, contro i droni. Carina, sì. Vabbè, non è male comunque avere un alleato in più, eh. Il fatto è che riusciamo a far fuori però tipo Goblin. Perché è brutto. A due di attacco è anche... Beh, tu attacchi... Il criminoso. Tu comunque attacchi a... A tre. A tre più Shang-Chi. Eh, non vorrei perderlo. Se però sono costretto, lo faccio. Perché sono già a metà punti vita. Fammi guardare un attimo il wording. Dopo che giochi Shang-Chi dalla tua mano. Call for backup dice... Ogni giocatore può cercare nessun mazzo di scherpare per un alleato e metterlo in gioco. Perché io potrei mettere in gioco di nuovo. Eh, non si attiva. Quirre il girl. Ma non si attiva Shang-Chi. No. Però va bene. Vuoi mettere il call for backup? Vabbè, io allora questa non me la gioco. Sto pensando come... Prima devo pagarlo. Call for backup. Che vabbè, posso usare il webshot. Se uso il webshot, poi ho due risorse per giocare un altro. Potrei giocare un altro di questo con cui lo stordisco, no? Ok. Però poi come intervengo sul call for backup? Diciamo che intervengo di due più tre cinque. Quindi non riesco a farlo fuori tutto. Ci vuole uno tuo. Perché io ho messo dentro anche Rocket. Che non posso giocare in quanto non sono guardiano, ma col call for backup posso. E Rocket ha una bella sopraffazione anche su Hop Goblin, per esempio, no? Assolutamente, sì. Però mi servirebbe il tuo Shang-Chi intervenire su call for backup. Sì, non posso farlo, perché ovviamente tu la giochi dopo. No, dovresti... Esatto, no, non si può fare. No, sai che non riesco a sistemare il call for backup? Tre, cinque. Quindi no, niente. No, no, allora... Prossimo turno. La tieni per il prossimo turno. No, mi serve per scartarla per fare un'altra cosa, credo. Vediamo. Vabbè, io questa la gioco perché in realtà non posso fare niente. Faccio tre danni Hop Goblin. Posso solo fare questo. Shang-Chi che facciamo? Secondo me Shang-Chi se ti muore è solo meglio, cioè nel senso... Perché così rientra in gioco. Però tu non sei messo benissimo se ti attacca. Hai il bei sette punti di vita, ti difendi. Devo scartare sempre... Vabbè, posso farlo. Faccio due danni Hop Goblin. Ti direi se usassi Shang-Chi, ti direi sì. Scusami, se usassi Squirrel Girl, ti direi sì. Ma Squirrel Girl adesso non ho modo di trovarla. A meno che pescando carte... Perché io adesso gioco White Tiger e pesco due carte, no? Ci sei? Sì, 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 sì. Perché tu potresti prendere poi due danni e attacchi tre e fai tre danni Hop Goblin, giusto? Sì, giusto. Solo che poi vado a cinque, quindi devo stare un po' attento perché io sono a nove. Eh, in effetti sì, in effetti sì, in effetti sì. È vero che metto dentro White Tiger. È anche vero che è possibile che lo stordiamo. Però, insomma... Stare un attimo abbottonato. Dipende se tu vuoi usare l'abilità dei Gauntlet per poi fare tre danni Hop Goblins. Però non vuoi prendere i danni perché giustamente vai un po' a rischio. Faccio due danni io a Hop Goblin io e poi lo uccidi tu con Spider-Man normale. È però abbastanza subottimale, sei d'accordo? Eh, sì, sì. Piuttosto con Shang-Chi potresti intervenire sulla trama principale o far fuori il tuo gregario? Perché anche far fuori il tuo gregario non è malvagio, eh? Il drone, eh? Sì, ma lo Specialized Training non puoi giocare nient'altro, che costa uno? Che carta hai scartato per lo Specialized? Questa, la cancellazione. Oh, ma cavolo. Perché ho giocato il calcio nel suo turno e sono rimasto con due carte. Ma io con Shang-Chi farei fuori il tuo gregario e poi con il mio Spider-Man faccio fuori il mio gregario e il Goblin. Ok. Cioè, dobbiamo sempre tenere pulito i gregari, cioè la chiave è tenere bassi i droni, c'è poco da fare con l'ultro. Ok, va bene, dai. Ok, allora con Shang-Chi lo scarto e uccido allora il drone. Ok. Ok. Io faccio, spendo uno, due e tre, gioco Wet Tiger con cui pesco due carte. Uh, interessante questo. Cioè, nì, perché non ho pescato, non ho pescato, cioè ho pescato l'energia, strength, ma poi mi manca però il coso per stannarlo. Ok. Allora, vediamo un po'. Vabbè, potrei fare così, cioè io potrei fare energia e webshot per far fuori Hobgoblin. Purtroppo non è super efficiente perché non ho la risorsa fulmine, però intanto lo facciamo fuori. Non riuscivi a giocare White Tiger senza usare il webshooter, no? No, no, non mi tenevo il webshot poi. Ok, ok. Il problema era quello lì. Sì, è un peccato. È un peccato, sì. Però, almeno così, poi facciamo fuori Hobgoblin, io posso attaccare sia con White Tiger che con Spider-Man e fargli quattro danni, oppure con White Tiger e Spider-Man togli due minacce dalla Specialized Training. E scusami, quattro minacce dalla Specialized Training che vuol dire che quando vai a pescare White Tiger andiamo, l'altra White Tiger andiamo a liberarla sostanzialmente. Sì. Ok, vabbè, il drone uccidilo però. Ah sì, certo, no, il drone devo farlo fuori. Quindi allora facciamo il webshot per far fuori Hobgoblin. Ok. Poi, con Spider-Man facciamo fuori il drone, con White Tiger direi che a questo punto... Io farei danni ad ultro. Danni ad ultro, via, ci sta. Cioè, il problema di questa trama è che se viene fuori l'advance, lui passa. Lui passa comunque, sì, quindi ci conviene adesso non intervenire finché va a quattro, poi la portiamo giù e poi ci penseremo. Sì, va bene, facciamo così, dai. Ok, quindi finisce fase giocatore. Farei così. Ok. Allora, cosa ho pescato? Ok, vediamo un po'. Ok. Quindi, quattro, allora. Allora, lui si attiva contro di me, giusto? Sono il primo giocatore? First, sì. No, sei tu il primo giocatore. Non l'abbiamo fatto girare, mi sa. Sono io? Ok. Avevi fatto tu prima. Ho avvenuto il dubbio? Sì, 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 sì. Prima io ho giocato prima. Ok. Quindi è corretto. Quindi attacca me e quindi mi mette il drone. Sì. Ok. Allora, vediamo un po' che carte ho. Ho una buona carta, però. Quindi io decido di prendere. Quindi mi attacca di tre. Più la busta, giro io. Sì. Oh, madonna. 6, 6, 12. Eh, mamma mia. Terribile. Scarto una carta, così prendo un danno in meno. Quindi mi fa 5 danni. 1, 2, 3, 4, 5. Vado a 11 danni. Quindi scarto una carta. Mi attacca il drone e scarto un'altra carta. Ok. Ho quella che mi cura, per questo ho voluto rischiare. Che cavolo. Ok, attacca a te. Attacca me e mi dà un drone. Oppa. Paro con White Tiger. Usti. Fuori electro, via White Tiger. Poi attacca a me e vado a 4. Ok. Il drone, sì. Allora, carta incontro. A me è una te. Prendi la tua, così non si flippa. Ok. Ritorsione, va bene. Va bene. Toglieremo. Va bene, va bene. Ci fa respirare. Ecco, questa è un po' meno. Tu puoi cancellare? No. No, ok. Purtroppo no. Quindi Shift più S. Incaggiato con me. C'è un grosso istimilio qui, eh. Sì. Ok. Allora. Tocca a me, giusto? Tocca a te. Allora. Allora, sto un attimo pensando. Perché io potrei confondere Ultron, perché ho Psylocke, per andare in Alter Ego e curarmi, perché sono un po' così. Però, tu ti trovi un po'... Sto guardando quello che posso fare io. Perché io posso mettere giù la pistola al plasma. Ok. Io c'ho la pistola. Che comunque è buona per far fuori un minion. Poi ho anche il Power Within. Dopo che il tuo roe usa un potere base, scarta il Power Within e risolvi il Venom Blast. Con il Venom Blast io confondo Ultron. Potrei confonderlo io a sto giro, eh. Ah, ok, ok. Allora, fai tu e io faccio un'altra cosa. Che io mi devo curare per forza, ho due punti di vita. Sì, sì. Quindi io potrei confonderlo. Sarebbe buono, però, che tu non buttassi via Psylocke. Ah, beh, no. Pertanto Psylocke puoi usarla quando vuoi, la sua effetto risposta, giusto? Sì. Non mi ricordo se è un Forsed o... No, no, no. Posso anche intervenire due la prima volta. Esatto. Che non è male su The Crimson Coal. Perché alla fine... Perché a Trenti passa. Esatto, no. Dobbiamo tenerlo ancora lì senza massacrarci. Tanto prima o poi l'Advance uscirà, no? Però senza massacrarci toglie neanche solo uno, ma... No, scusami. Due perché... Sì. Due perché poi con il Tracking Play va a... Va a cinque, no? Ci sei. Che sarebbe la cosa forse migliore da un punto di vista... Probabilistico. Sì. Cioè io potrei far così. Io potrei fare webshoot. Via, via... Perché... Allora, io potrei far fuori Prowler. Ok. E... Se tu lo confondi, io vado in Alter Ego e mi cura. Eh, potremmo far così. Oppure... Faccio fuori... Sì, faccio fuori Prowler e un drone e vado in Alter Ego. Questo io posso fare. Secondo me fuori Prowler e un drone... Tanto sono io il primo giocatore, giusto? Sì. Quindi cominciamo così. Io faccio lo swing in... Con cui tolgo quattro minacce da una trama... Che potrebbe essere... Vabbè, ottimo. La Tracking Play, sei d'accordo? O ce ne freghiamo? E... Allora, se togli la Tracking Play però... Con Spider-Man devi... Puoi andare sulla principale. Devo intervenire. Però sì, siamo ancora un po' troppo in là per la partita... Per poter non toglierci la Tracking Play, sei d'accordo? Mm-mm, sì. Cioè, va tolta perché siamo ancora troppo... Se riusciamo a resistere sulla prima trama, più siamo, meglio è. Esatto. Quindi, come dire... Io farei... Toglierei questa. Vai. La Tracking Play, se va. Adesso non so se è perché... Prova a vedere se riesci a toglierla tu, la Tracking Play. Ah, perché non va nella Discord avendo fatto lo spawn. La mettiamo a mano. Ok. Con lo Swing In e do a Spider-Man un Taff e confondiamo Ultron. Bene. E ho speso due. A questo punto con questi due vado a giocare la pistola al plasma. Ottimo. Con cui faccio fuori un Gregario. Eh, la ritorsione è brutta di Ultron. Ora. Sì. E con Spider-Man vado a intervenire due qua. Per forza. Ok. Vai. Allora, io faccio così. Con due carte mi gioco l'Han Cannon. Carino. Così io posso... Posso attaccare di tre il drone, mi gioco il momento di trionfo, con cui mi curo di due e mi stappo. E a questo punto attacco di tre più due e cinque. Sì, non ho fatto overkill, però faccio fuori Brawler. Quindi attacco di tre. Non male, sì. Io due e cinque e faccio fuori Brawler. Sì, non è male. Adesso... Cioè potrei anche stare in eroe, però magari respiriamo un attimo. No, vai in Alter Ego, ci sta. Peschi anche una carta in più. E mi tengo Psylocke. Con sei carte in mano mi tengo Psylocke, che magari mi può dare una... A riconfonderlo la prossima volta. Ci sta, secondo me ci sta. Allora, mi flippo. Un attimo che forse ho il ticket. Nella... Nella discarpile. Mi sa di no. Invece. Non l'ho ancora pescato. Niente. Allora passo. Ok. Quindi lui va a quattro. Ok, stavo guardando un attimo le carte che avevo pescato. Ok, qualcosina. Ok, sì, qualcosina. Quindi lui va a quattro. Si attiva contro di me. Mi ingaggia il drone e mi attacca a tanto. Ma io prendo... Ok. Mi toglie il taff e poi prendo un danno dal drone. Ok. Contro di te invece è confuso, per cui toglie il confuso. Poi dà una carta incontro a me. E una teca. E una la prendo io. La mia carta incontro è questa. Quando ho rivelato al primo giocatore mettere le top due carte del proprio mazzo in to play face down, ingaggiate come droni. Se avessi pescato un make the call, era buono. Perché tiravo squirre il girl. In un call, sì. Vabbè, ok. Mentre la mia... Va bene. Ma potrei proprio fregarmene per ora. Quindi devo andare a prendere George Stacey e lo metto qua. Lo vado a fare. Ok. La teniamo qui. Devo esaurirmi per prendermi George Stacey. Vabbè. Vediamo un po'. Ok. Tocca a me, giusto? Sì. Allora, sto un attimo pensando. Purtroppo non ho i due fulmini per togliere quell'arma. Allora, ce li ho io. Però devo esaurire il mio eroe. E sarebbe un po' da intervenire, perlomeno su quella che dà la doppia carta e anche sull'altra. Solo che io in questo momento non ho la carta per intervenire, dannazione. Allora, io posso in realtà rimuovere quattro minacce? Posso. Che non sarebbe male sull'imperatore di Ulstron. Allora, io potrei fare varie cose. Se vuoi curarti, devi curarti. Eh, però se mi curo, perdo tutto il magico gioco. Perché io potrei... Attaccare con sopraffazione un tuo drone. Così faccio danni a Ultron senza la ritorsione. Che non è male. Tolgo minacce. Col Chasing Down. E mi stappo. E posso anche giocare Psylocke e confondere Ultron. Che vorrebbe dire che potrei andare io in alter ego. Siamo passati solo per un saluto, per dirvi che abbiamo finito. Ottimo. Grazie. Grazie mille della campagna, ci siamo divertiti. Grazie mille. Grazie a voi. E a meno di altri eventi da qua a maggio, ci vediamo. Ci vediamo a maggio. Ma io pensavo di farne partire un'altra di campagna verso fine marzo. Tra un mesetto. Perché no? Si potrebbe fare. Rimischiamo le squadre, insomma. Non mi fate più giocare con sta gente, vi prego. Magari Roby, noi giochiamo a livello standard a sto giro. Non è esperto. Però veramente... Se volete giocare come esperto, giocate con Lorenzo che è un mazzo molto forte. No, guarda, non mi fate più giocare con da Verona in giù. Basta. Ma sei pure tu giù, scusa. Tu sei a Roma. Sei più giù in Verona. Vabbè ragazzi, buona serata. Buona serata anche a voi. Grazie a voi ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Allora, stavo dicendo, stavo pensando, perché io potrei mettere giù Psylocke, che non è male. Cioè potrei fare anche altre cose, tipo il braccialetto, però confondere Ultron, togliere due minacce, stapparmi, non è male. Fare fuori un drone con overkill. Non è male, sì. Unica roba è che dopo lui attacca... Vabbè, tu attacchi due droni, uno con... Ah, perché tu devi comunque intervenire sull'imperativo di Ultron. Ah, lui passerebbe... No, se tu togli quattro dall'imperativo di Ultron con quattro minacce... Eh, toglierei due, purtroppo. Non avevi detto che riuscivi a togliere quattro, mi sono perso. Eh, però se tolgo quattro non posso mettere Psylocke. Ok. E se togli due, io tolgo due dall'imperativo di Ultron, poi potrei stapparmi e togliere tre da quella principale e andare in alter ego. Con la pistola uncidi un drone, ti rimane solo un drone. Ah, ho un'altra pistola, ho un'altra pistola. Ah, allora io farei così, che ne pensi? Perché io avrei tante cose, in realtà, perché potrei giocare un altro enceno, ho la pistola, ho il braccialetto, che non sono male, però qui, secondo me, bisogna un po' ripulire un po' tutto. Sì, bisogna far fuori tre doni e li facciamo fuori. Se tu riesci anche a travolgere un po' su Ultron... Posso. Attacchi a 5, meno 1, 4, comunque va a 27, cioè, perché l'obiettivo è cercare di... Abbiamo detto di portarlo allo stadio 3, perché è vero che picchia di più, ma non butta più fuori i droni. Sì, 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 sì. Quindi... Psylocke, secondo me, qui è molto utile. Cioè, confonde due volte. Quindi io metto giù Psylocke. Vai. 2, 3, 4... E mi gioco Psylocke. Poi. Sì, mi prendo il danno di ritorsione, ma pazienza. Quindi faccio due danni a Ultron, due danni io, però lo confondo. Ok. No, 5. 6. 5, scusami, sì. Ok, a questo punto io mi flippo. Cioè, potrei curarmi, però posso fare la cosa. Cioè, io attacco di 3, 5, con sopraffazione. Quindi faccio fuori un tuo drone. Vado. E faccio 4 danni. 1, 2, 3, 4. A Ultron. E mi gioco il Chase them down. Quindi rimuovo due minacce da una trama. Potrebbe essere quello lì, sì, ottimo. E mi stappo. Ora, qui io potrei fare un altro sopraffazione. Ah no, questo lo dovevo esaurire. Ah, ok. Allora, o attacco 3 Ultron, però mi prendo la ritorsione. Potrei anche intervenire di 1 sulla principale, in maniera che automaticamente non passa. O fare 3 danni a un drone. Perché tu potresti anche attaccare Ultron e poi scartare una carta per non prenderti il danno di ritorsione con la suite. Eh no, è un enemy attack. Quindi non posso. La ritorsione è un enemy attack. Giusto, sì. Corretto. Perché potrei anche ucciderti un drone. Lo so che è subottimale. Per chi attacco di 3 è brutto. Però se ti uccidi un drone, tu uno lo uccidi con la pistola. E con Spider-Man tu puoi fare 2 sull'imperativo di Ultron. E 3 di là, sì. 3 di là e vai in alter ego. Sì, ho anche tutta la mano ancora io, in realtà. Non ho una gran mano per fare cose. Però è comunque utile. A meno che non riesci a far fuori il drone in maniera migliore. Il secondo drone. Fammi fare dei ragionamenti. Aspetta. Questo è un hero action. Dunque, faccio fuori il secondo drone. Tacco. Facciamo così. Facciamo come hai detto. Eh, perché la ritorsione la eviterei. Ho comunque 9 danni. Sì, sì. Allora, faccio fuori il tuo drone. E fuori il mio drone. Ok, eliminarlo pure tu? Sì. E posso. Ok, quindi ho questo punto con Spider-Man e intervengo 2 da qua. Ok. Poi prendo 2 danni. e mi stappo. Con il 3 intervengo 1, 2 e 3. Poi, con la pistola al plasma, faccio fuori quest'altro drone, quest'altro tizio. Poi, lui è confuso, giusto? Però, no, però... E lui è confuso. Perché potrei quasi spingere e togliergli... No, però non riesco. No, ok. Allora, spendo... 2 per giocare un'altra pistola al plasma. Che comunque ci aiuta per i droni. Ok. Ci sei? Sì, assolutamente. Poi... Perché io adesso ho questo, guarda che carino. Io potrei flipparmi in alter ego, stapparmi, curarmi... E... no, rimarre... E curarti... Sì, non conviene riandare in eroe, secondo me. Non conviene, no, esatto. L'unico vantaggio è che mi curo prima, diciamo... E non è male. Tu hai due punti vita, praticamente. Quindi curarti va bene, secondo me. Esatto, sì, sì, curarmi va bene. Quindi, io faccio così. Mi flippo in alter ego. Mi stappo, perché l'ho pocato come pugno. Poi, che carta del mio set posso andare a rimescolare? Secondo te? Quella che fa danni e stordisce. Quella che fa quattro danni e stordisce. Sì, secondo me... Per tutto quello che abbiamo detto, ha senso. E poi mi curo di quattro. Un, due, tre, quattro. Ok. Va bene. Ci sta, no? Ora, si spera in un turno più tranquillo, gli togliamo l'arma, che è brutta. Ok, intanto io ho Make the Call, con cui poi possiamo buttare dentro Squirrel Girl. Questo è utile. Qui se poi arrivano troppi droni, in qualche modo... li gestiamo. Poi ci posso fare Spider Camouflage. Ok, va bene. Quindi lui si attiva contro l'Itte e ti attacca. Allora... Eh sì, allora. Mi mette il drone. E mi attacca di due, tre, quattro. Allora, supponiamo che esce il più tre. Sette. Sette meno tre, quattro. Muoio. Muori. Però poi si può scattare una carta. Devo scattare una. Perché non vorrei perdere Psylocke. Confonderlo un'altra volta non è fatto male. Tieni presente che volendo posso confonderlo anch'io dopo. Posso confonderlo anch'io dopo. Sono indeciso. Paro con Ghostpiler o paro con Psylocke? Dunque, mettiamo il worst case. Lui attacca a quattro. Più tre, sette. Meno tre, fa quattro. Tu devi per forza togliere uno. Se poi ti attacca il drone... Dovrei perdere un altro, però è rischiosissimo. Tu puoi confonderlo. Io lo posso confondere, sì. Vabbè, allora dai, sacrifichiamo Psylocke. Non rischiamo. Sacrifichiamo Psylocke, sì, sono d'accordo. Quindi, se esce il più tre, è più due. Eh, va bene. Non sarà tanto. Ok, Psylocke ci saluta. Il drone... No, non mi fa il danno. Perdo una carta. Voglio rimanere così. Vabbè. Contro di me è confuso. Poi do una carta incontro a te, poi... Dai. Una carta incontro a me. Uffa! Eh, il criminale ti attacca. Vabbè. Questo è un problema. Questo è un problema, sì. Adesso è un problemino. Eh, posso fare poco. Mi metto un drone perché lui adesso mi attacca. Due, tre, quattro, cinque. Eh, devo solo sperare. Devo solo sperare, sì. Beh, purtroppo sì, non posso fare niente. E vabbè. Vediamo cosa viene fuori. Terribile. E niente. Cinque meno... Scusami. Due, tre, quattro, cinque, più tre, otto. Eh, muoio. Uno, tre, fa cinque, muori. Porca miseria. Eh, che sfiga. Peccato. Doppio attacco. Non avevamo alleati. Tu non avevi alleati. Non posso fare niente. No, l'ho attaccato due volte. Che peccato. Perché era andata abbastanza bene. Sì, è vero. Tu cosa avevi qua? Ah, no, tramava. Quindi passava pure. Eh, che turno brutto questo. E niente, che si fa? Ma potremmo... Come sono le regole del continuare a giocare quando muore un'altra? Eh, ormai... Eh, vabbè, ma da solo... No, ma la facciamo adesso io e te. Così. Cioè, tu, decidiamo insieme come proseguire. Se no, la chiudiamo, abbiamo perso, non è un problema. Se no, continuiamo con me. Capisci? Eh, sì, ma lui rimane sempre ai suoi punti vita. C'è sempre 44. Sempre 44, sei sicuro? Sì, avanza di due. Cioè, tutto conta come se fossero ancora due giocatori. Sì, sì. Tutto quanto? Lo controlliamo? Sono sicurissimo. Perché all'inizio della partita, il numero di giocatori all'inizio... Però io prendo un'unica carta, giusto? Sì, quello sì, certo. Però lui avanza di due e ha comunque 44 punti vita. Ah, ma comunque c'è scritto If a player is eliminated, this value does not change. Ok. Ma allora, facciamo così. Vediamoci mezz'ora. Vediamo come va. Tanto a sto punto giochiamo con un unico personaggio. Tu guardi il... Il... Quello che io proietto su... Oppure ti fai look. Cioè, proviamo a vedere come va avanti. Va bene, dai, va bene. Così. Tanto una mezz'ora. Se poi vediamo che in mezz'ora abbiamo fatto due danni, vabbè, ciao. Capito? Ho capito, ho capito. Va bene. E i miei gregari che fanno? Vanno a me. I miei gregari vanno a me. Ok. Poi andranno scartati, credo. Quindi lui diceva che lui trama, giusto? Eh sì. Tiene fuori questa... Contro lo schema hai scartato la top card del tuo mazzo per ogni minaccia. Quindi due più... Due più tre, cinque. Quindi ho scartato cinque carte dal mio mazzo? Sì. Cinque. Uno. Due. E in più passa. Due. Tre. Tre. Quattro. E cinque. E in più passa. Quindi qua facciamo andare avanti. E in più passa. Quando rivelata mette la top del card ingaggiata. Ok. Quindi un altro drone. E una carta perché ho finito. Che però non si attiva o si attiva? Eh si attiva perché siamo sempre nella fase quattro. Ok. Printed point. Sorge. Sorge. Ah no, aspetta, aspetta. Attacca il mino a copiare e printed point. Non ha printed, giusto. A base hit point. Eh forse no. No, no, no. Questo è surge. Ok, va bene. Va bene. Questo va benissimo. Ok. Allora tu vedi quello che ho in mano? Sì, sì, sì. Guarda, io farei così. Che peccato. Tranquillo, tranquillo, Roby, io ci credo. Ci sto credendo. Dai, vediamo. Sarebbe un gran colpo. Ci sto credendo perché io adesso posto con Make the Call e questi due giocare a Squire... No, Squire Gun mi è stata rimescolata. Ci sei, perché? Eh sì. Ah sì, cosa volevi fare? Eh no. Va bene, va bene. Non c'è problema. Ci credo. Vabbè, usi le pistole. Sì, infatti. Usi una e poi... Allora, è un hero action, quindi mi flippo. Sparo con la prima pistola che viene scartata, facciamo fuori questo. Sparo con la seconda pistola che viene scartata, facciamo fuori questo. Che era Maria Hill. Eh, Maria Hill con Make the Call non è una bru... Però non interviene niente a sto giro Maria Hill. Ok, va bene. Poi, io farei così. Con Spider-Man e... Ehm... L'energia... L'energia... Esatto, l'energia e gli togli... Scarto il Concussion Blaster. Pronti via. Poi, potrei mettere in gioco il meccanismo di difesa, prendere due danni indiretti, stapparmi... Ci sei? Sì. Attaccare tre. Un, due, tre. Scartare questo. Che lo confonde. E ti prendi il robusto. E mi prendo il robusto. Ok. Però così non posso più andare in alter ego. Però aspetta. No, no, no. Sì, si posso farlo. No, ma... Scartavo Make the Call per giocare il meccanismo... Ah, scartavo il plasma pistol. Mi tenevo Make the Call per giocare il meccanismo di difesa. E adesso gioco con il leadership, la double life, con cui mi stop, con cui vado in alter ego perché cambio forma. Ho pagato usando il pugno perché ho pagato con la leadership skill. Ok. Mi stappo. E ti curo di quattro a questo punto. Mi curo di quattro e rimescolo una carta che è double life. Ci sei? Scaffo il keyboard. Un gran turno è fatto. Ah, sì, peccato perché... Sì. Ok, quindi a questo punto ci attiviamo. Quindi finisco la fase del giocatore. Quella va avanti di due sempre, sì, per la stessa logica di prima. Sì, esatto. Ah, no, sì, di due. Però a venti, ok. Dopo aver piazzato qui durante lo step uno della fase del villain, ogni giocatore... O ti prendi un drone o metti due minacce. Tu vedi le mani, la mano che ho? Eh, aspetta che mi ha ripreso la mia. Perché con Sunspot riuscivo a fare un sacco di cose, ma non ho l'icona incredibile, non ho l'icona fulmine. No, facciamo così, metto due minacce. Metti due minacce, va bene. Che poi puoi sempre fare make the call con Maria Hill. Esatto, esatto. Poi lui è confuso, toglie. Ok. E questo trama di uno. Ok. Mi dà una carta incontro. Ecco, questa non ci voleva. Vabbè, vabbè. Trama. Trama di due più. Due solo. Scegli se spendere un pugno o metterti un drone. Ma mettiamo un drone. Anche perché il pugno lo spenderei, l'energia mi sembra subottimale, completamente subottimale. Eh, ma l'energia puoi usarla per Sunspot, webshot, però non usi il Venom Blast, è un peccato. No, no, il Venom Blast lo uso adesso. Lo usi con Sunspot, cioè col fulmine. Sì, con Sunspot per forza, sì, sì. Quindi mi prendo un drone. Ti prendi un drone e lui trama di due, giusto? Quindi va a sette. Ah, l'avevo messo io. Ah, scusa, vai tu, vai tu, sì, sei più comodo. Io devo scartare due carte. Ormai sono spettatore, lo è. E mi prendo un drone. Ti prendi un altro drone, sì. Ok. Ok. E io mi flippo in eroe. Make the call con l'appena arrivata Squirrel Girl. Faccio fuori i due droni, faccio un danno a lui. Perfetto. Mi piace. Sì. Poi faccio, con questi due gioco webshot, con cui faccio 4-6 danni stun. Ci sei? Direi ottimo. Ah, te la passi meglio da solo, cioè. Hai visto? Tra l'altro c'ho Assess the Situation, che gioco. Così dopo pescherò una carta in più. E chi sei? Con Squirrel Girl potrei fargli un altro danno. E con Spider-Man potrei rimuovere due. Per tenerla un po' più controllata. Giusto? Volevi attaccare? No, va bene. Tanto al prossimo 4 danni glieli farai, no? 4 danni. Ah, per farlo andare avanti. Anche tu hai ragione. Sì, 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 sì. No, mi piace. Facciamogli. Questo turno non ce la fai, il prossimo. Il prossimo, sì. Facciamo così, va bene. Quindi finiamo la fase giocatore e peschiamo una carta. A Ultron 3, se tu hai modo di parargli il suo attacco 4, cioè lui è bloccato. E il suo attacco 4 glielo paro via via con gli alleati. Sì. Esatto. Capito? Il viaggio con il robusto lo blocchi. Esatto. Quindi lui ha messo già su le minacce, sì. Va a 9, sì. Poi dobbiamo scegliere se prendere un drone. Sì, prendo un drone. No, no. Perché? Lui è sordito. No, però dice dopo aver piazzato qui durante la fase 1 della video. Ah, sulla trama principale, giusto. Sì, si prende un drone. E il drone ti toglie il robusto, però. Paro con Squirrel Girl. Che poi ributto dentro con Make the Call. Ah, il gioco. Tutto, sì, sì. Vabbè. Lo swinging riesci a giocarlo, poi. Perché tu vorresti fare Make the Call con Genius, no? Però se Genius lo usi con lo swinging. Ma anche con Victor Mancia e Call for Backup, in realtà. Puoi fare anche così. Perché non vorrei andare a mettere su minaccia, troppa minaccia, capito? Sì, comunque... Sì. No, sennò tu dici, aspetta. No, dai, va bene, non mi piace questa cosa qua. Mettiamo su due minacce. Ok? 11. Comunque è 20, è la soglia, quindi. È 20, sì, sì. Poi lui è stordito, mi toglie lo stun e mi dà una carta incontro. Ok. Che miseria. Il criminale trama. Due più. Vabbè. Bene. E niente. Ne sono solo due. Uno, due. Ok. Ottimo, ora è tutto il turno, puoi fare tante cose qua. E allora, rimuovo quattro minacce con lo swing in e lo confondo. Sei d'accordo? Sì, sì, sì. Però aspetta, no, no, aspetta, aspetta. Però io così mi tolgo il taff, cioè ho il problema del taff. Ci sei? Sì, sì, ti rimane, eh vabbè, lo so, è un po' subottimale, però lo confondi che è un turno free dopo. Io lo farei comunque. Tanto tu butti giù Moon Knight e magari anche un altro alleato, quindi hai tre alleati, cioè sei messo bene. Quindi vado giù con Moon Knight, però non ho alcuna Wild, Moon Knight attacca e gli facciamo i due danni, quindi è sconfitto. Ci sei? Perfetto, studio 3. Quando rivelata cerca il mazzo incontro di Skrpiper, l'ultro, l'imperative, quindi è una side scheme. Ah, vero, quella che ti mette due droni, incontro. Va bene, adesso la gestiamo. Qua, side scheme. Che a questo punto è da quattro questa? Sì, certo. Ok. Mi mette due droni questa, giusto? Uno e due. Questa parola va tolta adesso. Mi mette due droni ed è fatto, ok. Questa va tolta. Io potrei intervenire uno con l'imperativo di ultro, sull'imperativo di ultro con Squirrel Girl. Rigiocare Squirrel Girl, far fuori due droni, intervenire due, poi con Spider-Man intervenire due sull'imperativo di ultro. Ci sei? Cioè fare così, togliere uno da qua, muore Squirrel Girl, ributto dentro Squirrel Girl con Make the Call. Ah, ok, perfetto, perfetto, sì, sì, sì. Squirrel Girl entra. E occhio che i droni hanno più di punti vita, eh. Ah, caccherona. Vabbè, non è un problema, fai un danno a tutti. Un danno con Squirrel Girl, un danno con la pistola e fai fuori i droni. Quindi facciamo un danno, un danno. Ah, però non togli l'imperativo di ultro. Non tolgo l'imperativo di ultro, oppure mi tengo un drone e vado in alter ego. Perché tanto i droni non ha, ha solo più uno attacco, non più uno. Ah, e tra l'altro lui non può prendere danni, va bene, ok. Facciamo così, allora, la pistola al plasma, facciamo fuori un drone. Eh, sì, con Squirrel Girl e Spider-Man tolgo l'imperativo di ultro, sì, sì, sì. Spider-Man tolgo l'imperativo di ultro, ok. Sto in eroe perché mi conviene in realtà togliermi sto taff per potermi stappare più agevolmente, giusto? Sì, ti prendi l'attacco di ultro, hai il robusto, sì, sì. Se no vado in alter ego. Ma io starei, hai il robusto, io? Stiamo in eroe. Decidi tu, hai comunque due alleati, eh. Sì, 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 stiamo in eroe, va bene. Scegliete. Ok, tra l'altro così lo stordisco ancora e White Tiger mi fa pescare tra. Ah, ok. Eh, White Tiger è OP. Qui devo scegliere se mettere o due minacce qui o mettere la top card del mazzo come drone. Ma forse metterei due minacce. E poi interverrò con Moon Knight. Quindi, ultro mi attacca, paro con Squirrel Girl. No, scusami, prendo. Prendi, prendi. Ok. Tolgo il taff. Poi mi attacca il drone e prendo. Prendo due però, giusto? Prendi due danni. Sì, poi mi dà una carta incontro. Fai un danno ogni friendly character. Va bene. Peccato per Squirrel Girl. Peccato per Squirrel Girl che muore. E Moon Knight no. Ok. Pistola al plasma. Facciamo fuori il drone. Il danno l'hai preso pure, giusto? Sì, l'ho preso. Pistola al plasma facciamo fuori il drone. Perfetto. Ok. A questo punto potremmo fare via Mockingbird, via Leadership Skill, via... Il tuo biscotto tienitelo. Sì, e giochiamo White Tiger. White Tiger mi fa pescare tre carte. Ok. Perfetti. Andrei di webshot. Andiamo di webshot pagando con... È perché Okai è tanta roba, eh. Teniamo Okai. Perché Okai fa due danni... Questo è un vegetable life, no? Sì, perché Okai fa due danni a ogni minion che entra. E non è male. Ci sei? Sì, cioè fa fuori quello che butta giù la trama, quindi è molto forte. Esatto. Quindi gli facciamo quattro danni, sei danni... Stordito. Poi con White Tiger potremmo intervenire due. Con Spider-Man potremmo attaccarlo due, se sei d'accordo. Moon Knight ce lo teniamo. A questo punto potrei andare in Alter Ego. Così pesco una carta in più. E sfruttiamo il fatto che è confuso. Capito? Vuoi prenderti i danni o vai in Alter Ego diretto? Tu dici mi prendo i danni per... No, no, non lo so. No, no, posso far così. Prendo due danni, mi stappo, vado in Alter Ego, mi curo di quattro. E rimescolo il webshot. Cioè così guadagni un 2 di cura. Guadagni un 2 di cura, sì, sì, è sempre utile sta cosa. Ok. Quindi, andiamo qui. Così ho sei carte adesso, capito? Magari riesco a giocare in Occhio di Falco e anche il webshot. No, sono corto di uno. Però vabbè, vediamo. Allora, lui ha messo sulle due minacce. Devo scegliere se mettere un drone oppure altre due minacce. Mettere altre due minacce. Quanti advance sono uscite, però? Vabbè che sono treceri. Solo una. Un drone trama di uno. Uno contro due, non è che cambi tantissimo. No, però siccome deve ancora tramare e ha nove carte, preferisco il drone. Lo faccio fuori. Poi con chi lo faccio fuori? Con l'attacco base di Spider-Man in attesa di mettere giù Occhio di Falco, così tamponiamo i droni. E poi è stordito e il webshot glielo faccio dopo, il prossimo turno lo tengo. Quindi io direi, teniamo il drone. Ok, qui a questo punto, Ultron è confuso. Toglio il confuso. Il drone trama, ne mette su uno. E mi dà una carta incontro. Ok. Questa... Questa vandrà tolta, perché... Ma sai che potresti anche... Più un hit point, più un attacco. Sì, ma se fai fuori questo drone in qualche modo, poi magari non ne prendi più e questa qui è una carta morta. Sì, anche perché... È molto dispendiosa. Molto dispendiosa, sì, sono d'accordo. Sì, dai, mi hai convinto. Allora, andiamo in eroe. Abbiamo detto che giochiamo Occhio di Falco, perché... Eh, tra l'altro la Ragnacrobatics... Eh, fa già cinque danni. Cinque danni, non è male. Però aspetta, vediamo cosa dovrei fare per giocare Occhio di Falco. Se io gioco Assess the C2, giochiamo via Ganky Lee, dentro Web Shooter, che comunque è un acceleratore per dopo. Se gioco Occhio di Falco, no, ottengo il Web Shot o ottengo la Ragnacrobatics per avere Occhio di Falco. E Occhio di Falco lo vorrei, perché comunque è un'assicurazione contro i droni. Quindi, via Assess the Situation e via Arachrobatics, dentro Occhio di Falco. Pistola al plasma sul drone, White Tiger sul drone. Via la pistola al plasma e via White Tiger. Ok? Perfetto. Spider-Man interviene 2. Perché c'è comunque un Advance lì dentro. Occhio di Falco. Fa un danno a Ultron. Ok. Poi potrei anche... No, potrei far così. Facciamo prendere 2 danni. Anzi, un danno a Occhio di Falco e un danno a Spider-Man per stappare Spider-Man. E lasciamo un danno a Occhio di Falco, così che se esce quella che fa i danni a ogni personaggio amico rimane vivo. Ma stappo Spider-Man, cioè mi sono preso 2 danni. Uno su di me e uno su Occhio di Falco. E poi attacco a 3 Ultron. Ok. Ok. Quindi Occhio di Falco non avevi... Non ha attaccato più? No, direi che a questo punto non attacco. Lo tengo come pull di... Sì, l'ho tolto, l'ho tolto, perché era 8. L'ho mandato 9, l'ho rimandato 8, di più 3. Perfetto. Ok. Quindi, adesso si attiva lui. Lui mette su 2 minacce. Più, io direi un'altra, altre 2 minacce, perché a questo punto... Eh, però no. Il fatto è che se esce l'Advance è perso. No, si va all'ultima trama, che sono 5 turni che... Eh, che non puoi togliere le minacce, però. Eh, però poi si rimescola il mazzo, cioè nel senso, mancano comunque 43 danni. Cioè, diventa un rush adesso, capito? Ci sei, cosa intendo? Vuoi fare così? O piuttosto magari, invece di attaccare 3, intervenivi 3, che magari ti reggi una trama. Un'Advance, in caso. Perché i droni non li vogliamo più, perché attaccano 3. E bloccano, e parano Ultron. Io forse avrei tolto 3 minacce. Perché questa trama, se la teniamo qui, tu sei più o meno in controllo. Se viene fuori l'ultima, è un problema. Va bene. Quei fai tu, eh? No, no, senso, senso. Quindi gli ho tolto 3 danni, gli ho tolto 3 minacce. Metto su 2 minacce, anziché prendermi il drone. Perfetto. È stordito. Toglio stordito e mi dà una carta incontro. Esaurisce la tua carta identità, surge. Ogni drone. Va bene, va bene. Ti metto un drone. Ti metto un drone. Va bene, drone che entra in gioco. Spariamo una freccia di occhio di falco e gli facciamo due danni. Ok? Ok, quindi adesso tocca a noi. Io direi webshot, facile facile. Ci sei? Webshot pagato con rocket e webshooter. Ah no, non può prendere danni. Beh, allora facciamo così. Occhio di falco, fa un danno. Ah no, aspetta, facciamone un passo alla volta. Perché secondo me è a portata, eh? Sì, sì. Potremmo fare rapid response e una carta di webshooter per giocare Ironheart con cui pesco una carta. Non si sa mai. Ironheart fa un danno e fa fuori il drone ingaggiato con me. Ok? Allora, il drone l'è attaccato con? Gli avevo fatto due danni con occhio di falco e un danno con Ironheart. Ok, giusto. Perché va a tre punti vita, ok? Ok. Poi a questo punto facciamo con rocket e double life, facciamo webshot. Che sono quattro danni. Quindi va a dodici più altri due. Uno, due e stun. Ci sei? Perfetto. Ok. A questo punto lui ancora non ha... Sai cosa farei? Io interverrei due con Moon Knight. Sì, vabbè, ci sta. È comunque due alleati in caso di... C'è così. E lui è comunque stun adesso, no? Sì, sì, perfetto. Ok. Non starei a stapparmi perché sarebbero due danni per rimuovere tre trame. Non è malvagio in realtà, se ci penso. Vabbè. Sì, ma anche per fare tre danni al limite. Vabbè, no, vabbè. Volevi togliere tre minacce? È perché se esce l'advance... È perché noi adesso ne metteremo sempre due in più. Quindici, se esce un più tre, passa. Passa. Quindi facciamo così. Mi sono preso due danni per rimuovere tre. Così mi dà un po' più di respiro, tra virgolette, per dopo. Ok. Ok. Quindi a questo punto ne mettiamo su due. Va a dodici. Ok. È stun. Quindi non fa niente. E ho sbagliato. Questa qui è una carta incontro. Normale. Giusto? Sì. Sì, sì. Ok. Va bene. Va bene questa. Tanto io andrò in alter ego solo se... Appunto solo se, come in questo caso, è... Lo puoi confondere. Lo posso confondere, esatto, sì. Allora, make the call chi è che ho? Per caso Maria Hill. Ho anche Rocket. Però al momento non ho il coso. Maria Hill. No, Squirrel Girl ma non mi serve. Allai. Fare 5. Maier, Maria Hill. Tu puoi fare lo Swing In e poi la Rack Nobatic e butti giù 5 danni. Mi butto giù 5 danni, rimuovo 4 minacce da una trama e vado in alter ego. Che non è male. Oppure metti giù un terzo alleato. Ma secondo me quei due vanno bene per... Allora, se io faccio così. Io faccio Swing In pagato con il web shooter. E, per esempio, il regroup. Rimuovo 4 minacce da una trama. Poi do la carta Tuff. E lo confondo. Perfetto. Ci sei? Sì. A questo punto direi che con Make the Call gioco l'Arachno Crobatics. Con cui gli faccio 5 danni. Sì. E poi lo attacco. Giusto? Lo attacchi, sì. E va a 21. A questo punto vado in alter ego. Potevo quasi... Quando eri in alter ego? Potevo quasi... Sai cosa faccio però prima? Perché l'advance è in queste 5 carte, giusto? Che rimangono. Sì. Eh, quindi io rimarrei in eroe, sai? Per prendermi l'attacco. Tanto sei robusto. Sì, è vero. Però è perché pescavo sempre comunque una carta in più. Pescavi una carta in più. Sai anche cosa potevo fare? Prima di fargli 5 danni... Prendevi 2 danni e ti stappavi. Perché sono diventato Tuff? No, sono diventato Tuff quando ho tolto la minaccia. Eh sì, hai giocato allo Swing In. Ok, perché sennò potevo... No, ma sai cosa? Adesso sono... Hai ragione, sto in eroe e rimango Tuff. Facciamo così. Ok, va bene. Io farei così. Stiamo così, sono d'accordo. Ok, stiamo così. Ok, quindi... Uff, per qua prendo un'altra carta incontro. Questo può essere un po' fastidioso. Ok, allora ne mettiamo su 2 a questo punto. Ok, non voglio altri droni. Lui mi attacca. Io prendo così com'è. Bene. Via Kramel. Via il Tuff. Doppia carta incontro. Carta incontro numero 1. Sorge. Ok, va bene. Facciamo occhio di Falco per fargli due danni. Questo è ogni minion... Com'è che sono questi qui? Ogni face down. Ogni face down. Ok, quindi no, questo qui rimane a 4. Ok. Va bene. Ci sei? Ok. E tra l'altro che di Falco gli spara anche lui a 2. Fa due danni. Gli fa due danni. Giusto? Sì. Sì. Uno, due, tre. Ok. Allora, l'Advanced è a 5 punti vita, perché Ultron lo buffa. Cos'è che è l'Advanced, scusami? Il drone è quello avanzato. In realtà 5 punti vita. Con cosa lo buffa? Con cosa? Eh, la carta di Ultron. Ah, è il minion drone. Sì, giusto, corretto. Sì, sì, giusto. Mentre l'altra potenzia solo l'altro. Quello face down. Allora. Attacco più hit point. Sì, quindi allora. Quello face down lo faccio fuori con Iron Heart. Giusto? Che ha tre punti vita. Che sto un attimo guardando anche il... Sì, tu potresti farlo fuori con Iron Heart. Ma anche con la pistola. Perché poi l'idea è di giocare il webshot e stordire Ultron di nuovo. Eh, sì. E poi sarebbe però da andare in alter ego per curarsi. Sì, no. Perché io poi se no l'advanced come lo faccio fuori il drone avanzato? Che c'è... Che deve fare tre punti vita, no? Se prendo due danni... Cioè perché io potrei attaccarlo. Eh, dovresti attaccarlo con la pistola più te e poi stapparti prendendo i due danni per fare tre danni al drone che ti butta fuori lui. Ah già, perché c'è un drone che mi butta fuori, giusto. Che però ne basterebbero due perché c'è anche occhio di falco che posso far sparargli, no? Mmh, sì. Ma aspetta un attimo. Ma se io spendo invece quello che mi richiede con gli upgraded drone... Cioè se io spendo uno, diciamo due e tre, che sono le tre icone, istantaneamente quel drone là muore. Eh, ma non puoi fare più niente. Cioè qua il webshot era bello da giocare. Ma il webshot e poi posso ancora giocarlo, eh? Ah sì, giusto. Giocavi insieme alla pistola prima. Che non era male. Perché così il prossimo drone che entra, perché faccio fuori l'advanced, lo shotto con occhio di falco. Giusto, non ti serve il pinguino in più. Ok, vai così, buono. Sì, sì. Così, intanto mi tolgo anche una carta che, cioè, comunque un po' sta dando fastidio, no? Ci sei? Assolutamente sì. Quindi a questo punto, così io posso fare, posso anche non stapparmi, cioè posso fare uno con Ironheart per far fuori questo. Spider-Man facciamo fuori il drone, mi dà un altro drone, Ironheart ovviamente morta. Mi dà quest'altra carta qui, occhio di falco, entra in gioco, lo facciamo fuori subito. Perfetto. E ti giochi il webshot col webshooter. Perfetto. E a questo punto... No, sai cosa posso fare? A questo punto, prima di attaccare questo drone qui, con questo, mi gioco questo. Ci sei? Così poi con Spider-Man che attaccava, lui era tre, no? Era così. Ci sei? Lui attacca tre, uso un potere base, faccio fuori il drone avanzato, mi entra in gioco il drone che si becca la freccia d'occhio di falco, ma io scarto il power within e risolvo il Venom Blast, con cui faccio due danni e lo stanno. Ah, ok, va bene. Così mi tengo il webshot per dopo. Perfetto, sì, vabbè, diciamo, potrei tenerti il Venom Blast e lo usavi comunque. Eh no, eh no, perché il webshot mi costa due. Il Venom Blast non potevo. Ok. Ci sei? Va bene così. Sì, 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 va benissimo. Ok. Rimani in eroe o vai in alter ego? Ah, a sto punto rimarrei in eroe. Finché non esce l'advance, scusami, l'advance è quella lì. Ah, attenzione! C'è un'unica carta nel mazzo. Che quindi sarà per forza l'advance. Ah, cavolo! Se no, aspetta, ma se io invece la faccio uscire come carta potenziamento, non lo stanno. Ci sai cosa intendo? Cioè, non lo stanno. Lui mi attacca con la carta potenziamento e io parlo con lo che ho di Falco. Eh, ma perdi tutti gli alleati, però. Anche se perde sia lo stordito che il confuso, paziente. Cioè, tu poi lo ristordisci al turno dopo. Cioè, lui non fa niente questo turno. Capisci? Lui praticamente non fa niente. Sì, ma un occhio di Falco qui così senza frecce non mi serva niente. Può parare in emergenza. Sì, può parare in emergenza. Va bene, dai, ha senso. Quindi ha su due danni. Io sarò morto per un attacco in più che mi ha fatto. Sì, sì, ci sta. Ha su due danni ed è confuso. Mi è stordito. È stato brutto. Ok, quindi a questo punto succede questo. Bene. Ok, dopo riesco anche a fargli un po' di danni, tra l'altro. Quindi lui ha messo su le trame, metto su altre due minacce. A questo punto si va un po' più di corso. Assolutamente, sì. Quindi lui è stordito, toglie il taff, mi dà una carta incontro che dovrebbe essere l'advance. Perfetto. Allora, io potrei fare il classico webshot scartando rocket, però cacchia rola. Devo scartare anche squirrel girl. Vabbè, non è un drammatico. Non riesco a giocare all'arachno crobatics, però. Ci sei, perché l'webshot devo usare per forza il rocket. E anche squirrel girl. Sì, ma va bene. Preferisci fargli 5 danni o tenerti squirrel girl? No, fargli 5 danni. A sto punto fargli 5 danni. Preferisci fargli 5 danni, eh? Sì, anche perché così gliene faccio 6 adesso. Con squirrel girl rocket. Ci sei? Scusami, gliene faccio 6, quindi va a 29. E lo stanno. E poi gliene fai 5. Poi gliene faccio 5, volendo posso attaccare ancora. Più altri 5, addirittura 10 potresti farlo, però. 10 va a 39. No, è troppo tirato. Però gliene faccio... Eh, spreco il genius, fa niente. A questo punto bisogna fare schiare. Sì, sì, spreco, va bene. Sì, 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 vai. 5 danni. E gli faccio 5 danni. Quindi va a 34. Ora, a questo punto, la domanda è... Se io finisco in alter ego, riesco a mandarlo a 19, in modo tale che poi lui trama, andiamo alla prossima trama, ma... eh... Poi io mi prendo i turni che mancano per menarlo. Non so se mi sono spiegato. Chiarissimo. Allora. Cioè, tu qua potresti attaccare di 2 più 3, giusto? 5. Sì. E lui andrebbe a 39. 30. Poi tu vai in alter ego, lui tramerà, super, passa. Lui ne mette, aspetta, lui ne mette. Sì, sì, va bene, basta. Perché va a 19. No, ma sarebbe importante farlo passare con la sua attivazione, capisci cosa intendo? Con la sua, con la sua. Perché lui ne mette 3, adesso. Lui ne mette 3, però poi mette il drone. Mette il drone, esatto. Tu il drone non lo vuoi. Quindi io potrei intervenire 2. 1, 2. Poi, a questo punto, potrei stapparmi, attaccarlo per 3, andare in alter ego. Così lui ne va a 19, poi trama. Giusto? Perché lui ne mette su 4. No, perché c'è questa qua. C'è questa qua, guarda. C'è questa. Quindi ritorniamo alla situazione di prima. Ci sei che ha questa? Sì, sì, va bene. Perché, allora, tu sei intervenuto di 2, giusto? No, non ho ancora fatto niente. Sono tornato indietro. Ho tolto. Allora, se tu intervieni di 2, no? Lui va a 14. Sì. Il prossimo turno, lui ne mette 2 più 1 del gettone accelerazione. Quindi da 14 va a 17, più 2 del... Più 2 a 19. E poi lui trama di tantissimo. No, no, no. Se io lo tengo stordito, a quel punto lì, mi dà solo una carta incontro. Ci sei? Eh, l'idea è, vuoi farlo passare per andare in alter ego, ti tieni un turno con lui a 19, su 20. Eh, anche tenermi un turno con lui a 19 non è malvagio. Eh, no. No. Però, a questo punto conviene che ti fai due danni per tre danni, tu vai a... Cioè, se lui metti che ti riattacca, perché hai occhio di falco, dici. Al limite. Se lui mi riattacca a occhio di falco, no? 30. Perché da 39 quanto sono? 15 danni. Tu forse in due turni 15 danni puoi anche farlo. Eh, potrei anche farglieli, sì. Potrei anche farglieli. Perché un'idea potrebbe anche essere vai in alter ego, lui passa, tu hai un turno di 6 carte, poi vai in eroe, lui è stordito, e ha un altro turno di 5. Esatto, bravo. Se non riesci, è fatta. Però se già passa tre turni, quella trama è ingestibile. Esatto, bravo. Oppure, rimani in eroe, lui è stordito, ti becchi una carta, sperando che non sia niente di... terribile, hai un turno in più. E al prossimo tramerà, ovviamente. Non vai più a intervenire. Esatto, sì, sì. È solo decidere se farlo adesso o dopo. O dopo. Non è molto, diciamo... L'altra opzione sarebbe intervengo, mi faccio due danni, vado e mi curo. Così sto a 5 di nuovo, no? Perché è vero che non conviene due danni per tre danni, ma potremmo anche essere vicini a chiuderla, no? Ci sei? Sì. Allora, sicuro devi intervenire due, per forza, perché altrimenti passa automaticamente. Sì, sono d'accordo. Adesso qua non ci piove. Così che se io adesso rimango in eroe, lui ne mette su solo tre, a 5 va a 19, senza prendere il drone. Esatto. Che sarebbe anche, tutto sommato, discreto, cioè non male come discorso. Sì, puoi anche stare così, in caso lui dovesse riattaccarti, hai occhio di falco. Però può anche aver senso, invece, come dicevamo, andare a... perché un advance è già stata scartata. Ci sei? Quindi adesso l'altra che rimane sono 42 carte che rimangono lì dentro, no? Sì, e ce ne sono, mi sa, due che lo fanno tramare comunque. Di Ultron, giusto, sì. Quelle sue. Eh, se dovesse riuscire quelle abbiamo perso. No, allora stiamo in eroe, stiamo in eroe. In eroe, dai. In eroe, sì. Facciamo così. Ok. Ok. Non un granché di mano, anzi, una pessima mano, però il Make the Call potrebbe farmi riprendere... Non hai tantissimo. Potrebbe farmi riprendere Rocket. Rocket, con cui posso attaccare con sopraffazione l'eventuale Gregario e magari dargli anche leadership skill. Non una gran mano, purtroppo questa. Ok. Quindi a questo punto noi mettiamo su due qui. E va bene. Lui è stordito. Mi dà una carta incontro. Giusto? Sì. Questa è brutta. Però possiamo subito toglierla in realtà. Perché ho i due pugni. Sì. Cosa che conviene fare a questo punto subito. Ma Maria Hill non ce l'ho più. No. È rimescolato il mazzo. E questa va tolta perché sennò i danni non glieli faccio più, no? No, no. Lo devi fare per forza. Quindi con questa qui spendo due pugni e scarto il Vibranion Arbor e tappo Spider-Man. Ok. A questo punto secondo me allora Squirrel Girl qual è il senso di Squirrel Girl? Nessuno. Nessunissimo. Fa due danni. perché alla fine tu potresti giocarti poi l'assess quindi eschi sei paro l'attacco con Squirrel Girl o l'ipo comunque occhio di falco diciamo pronto. Però lui cioè qua dovresti intervenire di quanto per non farlo di nuovo? perché lui fa uno, due, tre di cinque tu puoi intervenire massimo di tre non hai un alleato che interviene due no? Sì c'è Rocket però non giocheresti l'assess però non giocherai l'assess perché se tu togli cinque lui non passa neanche il prossimo turno eh ma cinque vorrebbe dire che mi prendo i danni eh sette su nove bruttissimo sette su nove no vabbè vabbè no li puoi dare Rocket i due danni sì posso dare un danno Rocket volendo così mi tengo comunque Rocket come un altro operatore ok? sì certo no no cioè l'idea è non avere i droni i droni ti rallentano sì anche se è vero che perché un'altra opzione sarebbe schianto occhio di falco e lo rigioco con make the call rigiocando occhio di falco con make the call prendendomi uno due danni su occhio di falco scappo spiderman intervengo tre lo mandiamo a sedici gli faccio uscire un drone quando mette la minaccia e lo shotto con la freccia lo sai cosa non mi piace? che hai solo un alleato invece di due che deve un po' morire tra l'altro perché e muore se la carta incontri è un altro attacco eh sì come fai? sì no io qua prenderei prenderei in caso prendi Rocket io cercherei di tenere questa trama il più possibile però fai tu no no ma ha senso ha senso però Rocket lo prendo con anche assess the situation eh sì per forza allora dipende se vuoi farlo passare o no cioè se vuoi andare se no un'altra alternativa è giocare Iron Heart ah devi giocarla dalla tua mano però dannazione se no pescavo una carta che lui comunque tre ne mette su e e oddio se io faccio un danno Squirrel Girl un danno a me intervengo tre lo rimando a sedici e no però mette fuori il drone no no cinque devi intervenire cinque se non vuoi farlo passare però vuol dire che stiamo rallentando un altro turno però effettivamente il prossimo turno qualche danno dovrebbe salire è pescato malissimo questo turno però guarda che di webshot io ne ho due già usate non è che ne ho tantissime capito cioè nel senso ne ho tre nel mazzo quindi sono quelle che mi fanno i danni però magari peschi una White Tiger sì è vero se no se no non so perché se lo facciamo passare quella trama la prima volta che lui trama è persa è persa sì oddio in realtà ha dieci eh no a sei quant'è che ha la trama successiva cinque cinque giocatore quindi a dieci cinque giocatore a dieci ah quindi in realtà in realtà magari potrebbe quasi riuscire a tramare una volta se no cioè vado giù di danni capito vado giù di danni solo che di alleati forti o rocket che però no io metterei allora io metterei rocket però scegli tu farei interverrei guadagnare un turno e vediamo cosa succede dai va bene mi hai convinto quindi dentro rocket eh poi però ci sono varie varie strategie non lo so no no ma ha senso il fatto di rocket è che comunque è un alleato in più è un corpo in più e quindi rocket interviene uno interviene due toglie da qui ah però aspetta non avevo pensato una cosa cosa? eh perché se tu ti prendi due danni uno lo do rocket uno do spiderman esatto sì 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 sicuramente sì ok anche se questi qui sono tre danni che è un peccato proprio cioè perché comunque sarebbero quattro danni che io sto rinunciando ci sei? sarebbero quattro danni a cui sto rinunciando quattro danni un assess the situation però forse conviene ancora aspettare un attimo sì dai per non avere un altro drone va bene dai facciamo così la manda 14 i droni sono troppo brutti perché hanno tre punti vita e lo parano due punti vita eh due punti vita sì ok e lo parano va bene vediamo come va dai vediamo come va ok 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 vabbè se lo confondo gli faccio cinque danni con la raccobatics comunque non è malvagio eh già questa mano è molto meglio molto meglio sì quindi mettiamo su altri due lui mi attacca schiantiamo occhio di falco ok speriamo qui va bene va bene poi mi dà una carta questa quella di da qui sperare ah eh questo è il turno che non andiamo a intervenire più oh sì io fai tre danni al tuo eroe direi piazziamo due minacce qua buona eh altrimenti morivi quindi per forza sì ok allora a parte che US Agent è interessante perché ha un bel pool di punti vita per farmi stappare Spider-Man sì 4 1 2 3 però però confonderlo confonderlo andare in alter ego è buono perché lui adesso mette su tutte le minacce va avanti di trama ma è confuso per cui non trama ci sei? è solo sì 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 io farei così e in più io potrei fare allora Calu e purtroppo US Agent però mi ci vuole l'icona l'iconamente facciamo la swing in con lo swing in rimuoviamo 4 minacce da una trama che è per forza questa under attack sì ma il vero vantaggio è che gli do tough no forse conviene conviene prima attaccarlo ci sei? ah così puoi usare il gauntlet così poi mi stappo vado in alter ego e mi curo capito? sì sì perfetto quindi io prima l'attacco di 2 ok e poi prendo 2 danni col gauntlet e mi stappo poi rimuovo 4 minacce da una trama che è quello lì mi prendo il tough e lo confondo ci sei? perfetto giochi l'arachnocrobatics e gli fai 5 danni gioco l'arachnocrobatics e gli faccio 5 danni e lo mandiamo 41 vado in alter ego rimescolo diciamo il venom blast per forza sì sì stavo pensando magari però tu sei un punto vita rimanente no vai in alter ego e ti curo no mi curo è troppo rischioso un punto vita e teniamoli rocket sì cosa serve rocket è un attacco extra cioè nel senso a questo punto no teniamolo nel caso di emergenza lo teniamo esatto esatto tanto lui adesso passa pazienza però è confuso una carta sola quindi lui adesso passa la trama passa vedo che c'è Moon Knight Maria Hill c'è la pistola Maria Hill dai non male ok allora anche perché Moon Knight però non ho quella risorsa lì per pescare vabbè adesso ci penso questa avanza ok e tra l'altro non si innesca il no perché nel momento in cui la trama principale ottiene i segnalini va avanti giusto ci sei sì e metti il drone e metto il drone ingaggiato con me qua devi mettere sempre l'accelerazione quella rimane ok mettila tu ok lui è stannato è confuso confuso però il drone trama di uno trama di uno e poi mi dà una carta incontro sorge perché non posso scartare questo permanent come volevo come volevo un web shooter va bene un altro drone poteva andare peggio eh però questi droni ti rallentano tantissimo vabbè vabbè intanto rocket rocket fa soprafazione su un drone tanto per cominciare ed è notevole far soprafazione su un drone ci sei loro hanno due punti vita sì dico lui muore ma lo farei non fa niente sì sì lo farei lo farei anche perché io posso giocare con make the call posso giocare squirrel girl con cui faccio un danno un danno ai droni attacco con rocket travolgo tre su ultron potresti potresti anche riprenderti rocket volendo però no vabbè è mizze non è male per riprendermi rocket non è male per riprendermi rocket rocket usalo sicuramente lui ha un più tre giusto quindi quattro no era solo per capire che se uso se uso scusami ah no no aspetta aspetta no no ho detto una cavolata io scusami non puoi travolgere con rocket ultron non può subire danni se c'è l'altro drone ok quindi va fatto prima fuori un drone ok quindi uno lo devi far fuori quindi riprendersi rocket non serve molto no allora io direi gioco moon night che comunque è un alleato entra in gioco moon night fa fuori un drone male non fa rocket travolge l'altro drone e fa due lui e due a ultron e rocket muore si poi con make the call potrei ribettere buttare rocket ma non ha più senso a questo punto rocket dentro no 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 non ha più senso dobbiamo andare di danni non si può rimuovere primi minacci no esatto quindi con miles però quello che posso fare è però miles è tough quindi il solito discorso di prima non posso prendere ah no si posso fare danni indiretti tipo a moon night e uno a maria hill potrebbe essere maria hill si oppure potrebbe essere occhio di falco che ributto dentro 1 2 1 allora tu potresti oppure potrebbe essere us agent però tu potresti mettere maria hill e anche la pistola e sono altri danni che vai facendo giusto si se no potevo mettere us agent rianimandolo per stappare però no mi va bene ha senso e andrei danni sì 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 quindi io faccio make the call regroup per maria hill maria hill entra in gioco e pesca una carta un mimo pistola sì tanto sei robusto anche se il regroup è tanta roba cavolo perché mi farebbe riprendere in mano maria hill no vabbè ma pare tu sei robusto sì hai ragione pistola pistola poi sì farei così prendo due danni indiretti ne diamo uno maria hill e uno a moon knight no vabbè spero prima attacco prima attacco sì certo certo attacchi due prima attacco due uno due poi prendo due danni uno su maria hill e uno su moon knight stappo spider ma attacco tre un due tre quanti ne mancano sei uno con la pistola uno con la pistola e passi e vediamo il prossimo potremmo vincere c'è incredibile esatto dita incrociate quindi fine della fase del bill line aiuto incredibile fine della fase del giocatore c'è il venom blast in mano ultra mi attacca prendo in quanto sono tough ok via il tough mi dà una carta incontro ok va bene diciamo ne avevamo paura ma ok ma è chiusa ti muoiono è fatta incredibile grandissimo io mi stavo per arrendere grandissimo ottimo mamma mia con un sacrificio valoroso valorosissimo di Gwen cioè quanti danni hai fatto tipo 70 danni solo da solo te mamma mia ok chiudi chiudi tranquillamente Spider-Man Miles Morales è un eroe incredibile ma da true solo come avete visto è stata un'avventura un'avventura veramente incredibile ci abbiamo creduto fino alla fine l'abbiamo portato a casa poi abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni sul fatto che in realtà la scelta giusta era stata portarla allo stadio 3 in modo tale che non non sponava più Minion il fatto che Spider-Man è fortissimo perché permette di stannare e confondere in true solo è molto forte infatti molto probabilmente il prossimo speciale sugli eroi lo farò su Spider-Man insomma come vedete è stata veramente epica divertente è la prima volta che mi capita onestamente di giocare in multiplayer dove perdo un giocatore soprattutto in 2 e comunque continuarla con così tanti danni da fare perché poi c'erano 54 più 20 boh non lo so 70 danni che mancavano e riuscire a portarla a casa bene questo e altro lo trovate sul server Discord io spero che questa partita e questa avventura in generale vi sia piaciuta vi ricordo se che così fosse di iscrivervi al canale iscrivervi al server trovate anche tutta una serie di link utili per unirvi alla community di Dovera Gondor grazie ciao alla prossima